Parla a fiamme oro la vittoria nel Due Senza Pesi Leggeri, una vittoria che segna anche un ritorno in questa specialità che è stata un po' la tua specialità. Diciamo come è nata l'idea di riportare il Due Senza. Sì, quest'anno ho visto che c'erano tutti i presupposti per poter fare bene con Luca, che è un ottimo atleta e un valido compagno. Ci conosciamo da una vita e sapevo che questa barca poteva darci soddisfazioni. Ci stiamo allenando bene, abbiamo avuto qualche piccola defiance qualche settimana fa al Memorial, però l'importante è guardare avanti e fare bene negli allenamenti. Con il tempo i risultati vengono. Questo risultato, questo primo risultato, diciamo così, è sicuramente molto importante per voi e allora a chi volete dedicarlo? Io questa vittoria innanzitutto la dedico ai miei genitori e a mia mamma in primis, poi alla mia ragazza, al mio compagno di barca che è sempre al mio fianco e mi supporta sempre e tutti quelli che mi vogliono bene. Allora ragazzi, in bocca al lupo e continuate così con la speranza di vedervi in azzurro al più presto protagonisti. Sì, la prossima prova di Coppa del Mondo a Monaco sarà un ottimo punto di inizio, vediamo un po'. In bocca al lupo!